prepariamo vada konasana una posizione che va a lavorare sull'apertura delle anche e del bacino possiamo prendere un cuscino e sederci sul cuscino in modo che in gravidanza la colonna sia aiutata a restare più dritta e quindi l'addome è più libero di respirare andiamo poi ad unire la pianta dei piedi e la agganciamo con le mani cominciamo a controllare che la nostra colonna sia eretta quindi la lomba è diritta le spalle aperte il mento rientrato con il centro del capo che allunga verso l'alto lasciamo libere le ginocchia di cadere di lato e per aiutare le anche a rilassarsi cominciamo a fare un leggero movimento con le ginocchia in modo da sciogliere eventuali tensioni nelle nostre anche ripetiamo per alcuni minuti questo movimento e quando per noi sarà sufficiente cominciamo a rallentare fino a tornare nella posizione statica in questa posizione osserviamo l'addome che resta libero di respirare all'inspiro l'idea che la nostra colonna si allunghi verso l'alto all'espiro sono le spalle che si aprono che siamo un punto a terra davanti a noi e ci concentriamo inspiro la colonna che si allunga e spiro le spalle che si aprono e poi di nuovo restiamo nella posizione per alcuni respiri questa è baddha konasana le altre posizioni le vediamo su siamo donne punto it grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti